0 0 0 0 Un'escamativo visuale Lasciatemi gridare, in Italia che potrebbe essere un pro lo sai Per quello che dico io è un pro spagnolo, sennò non è lui Boh, non lo so, vediamo Se comincia a beccar gente brava Bravo un bapè Mamma mia che lancetto che io ho creato Bravi Calma Calma Mamma mia Che cosa ho creato qui con Rashford 3D Debole ha spaccato la porta Incredibile Gioco ragazzi, 4-2-2 sto utilizzando in questo momento Che non mi dispiace Perché stai bello compatto Resisti, bravi, voli Guardate Young come chiede il pallone Personalità per Frenchetto De Young Lolle 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 Ci mettiamo a fare le SBC e abbiamo di trovare qualcosa Avanti così ragazzi Avanti così Avanti così Amostro Sono in divisione 4 ragazzi Ma non so quante vittorie ci vogliono per arrivare in divisione 2-3-1 Sinceramente non lo so Però più avanti più diventa difficile Ecco ma non so che fa R1 e torno indietro R1 e torno indietro Quando magari c'è uno davanti Tipo adesso R1 e torno indietro Aspetto Per il momento Ma è giusto Ecco Ma sono entrato E bam Ho capito com'è R1 torno indietro E gli rompi il culo Lo rispetto agli altri Se lo dice lui Io ci credo Boom Che giocatore Rashford Alcuni tornei saranno 2 contro 2 quest'anno Tornei yay Quindi ho preso un'altra in bucata Porco schifo Bravo Tutti in bucata stupida Che succede a casa Con centro la col difensore Comunque Ci saranno alcuni tornei 2 contro 2 Dove c'è bisogno appunto di compagno di squadra Però ancora un po' posso dire Se vabbiamo Ruzziglione No dai E vabbò Prince Ma le Blacky quest'anno Pensi di farla Certo ragazzi Che ne faccia Due gol in due minuti Su palla recuperata Ruzziglione Ma in realtà ho difeso una merda pure qua Perché Alland è tutto mancino Quindi Basta un'altra sinistra Voglio dire che ci vuole tanto Oh non ha perso Palla un baffè Non ci credo È un sogno È un sogno È un sogno No va bene Neymarra Che giocatore Ma mi ha fatto tutto Stop Mamma mia Ma fa tutto Il gol è De Ronaldo Non è De Neymarra Quel gol è De Ronaldo Che stoppa la palla Si gioia da mezzo a due E lascia partire un passaggio Epico per Neymarra Che stoppa il pallone Se ne va sull'esterno Troppo forte Neymarra Mamma mia Che giocatore Niente Sbaglio a fare sti passaggi Difesa Attacco Vediamo un po' un baffè C'è una fascia Che spigna Sotto le gambe Raga allora I premi vanno In base al tuo livello Quindi tu Più vai avanti Di visione Più guadagni Crediti E soprattutto Pacchetti Io in questo momento Sto a Divisione 4 Livello 2 Lo storico Lo trovi qua Bene Se andate potrei chiamare Erpipero Va bene pure Erpipero Che stiano Andando da maniera Da altri premi Frate Sinceramente cambia poco O uno o l'altro C'è due alternative Come te dipende È semplicissimo Basta Stare sulla linea De passaggio E via Ma ho fatto Due partite Due volte Supplementari Le Ravats Ci gioco D'addio In full champions Sono Pippero Non capirò mai Sta cosa Mazza Che passaggio Che ha fatto Rigore Hola Va detto bene Vediamo un po' Se lo sbaglio Come al solito Che non lo sapevo 100% Si Ma che è sta merda Pratico Ragazzi Eh No 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 Non No 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 Non No No